Musica Quale numero di richieste di dimissioni siamo adesso che non me lo ricordo più? Musica Questa destra è innamorata delle armi, dagli alberi di Natale con i boss e delle pistole che sparano la notte di Capodanno. Musica La stelle chiede che il ministro Salvini venga immediatamente, urgentemente a riferire sul sistema di consulenza e appalti pubblici banditi da ANAS di cui ci parla oggi la spazio. Colleghi, per favore, per favore. Il ministro Salvini deciderà quello che deve fare. Io sono garantista perché considero una persona colpevole soltanto quando è condannata nel terzo grado di giudizio. Musica Non c'è nessuno stigma nell'usare il MES. È stata una colossale smentita di Giorgetti, quella che la sua maggioranza ha messo in atto oggi al Parlamento. Dovrebbe appunto ragionare sulle conseguenze di questo punto. Chi ti dice che vi dovreste dimettere? Il mess è in atto della sua posizione. Diciamo che i consigli dell'opposizione sono sempre utili, però permettetemi che poi decido io. Non demordiamo, riteniamo che la ministra Santanchè debba dimettersi, ha mentito al Parlamento. La seconda volta ci ritrovo in quest'aula per discutere su accuse giornalistiche risolta da mia persona. Bene, ma mi pare che l'ha chiesto senza bisogno del coro. Noi oggi ribadiamo la richiesta di dimissioni del ministro Piantedosi. L'opposizione chiede ogni giorno le dimissioni di un ministro diverso, quindi lei capisce che non fa più molta notizia. Dimissioni! Lei dice per quanto riguarda del Mastro Donzelli? Beh, il Movimento 5 Stelle è stato il primo a proporre le dimissioni del Mastro e a richiedere le dimissioni anche di Donzelli. Fratelli d'Italia ha sempre espresso il suo sostegno al sottosegretario del Mastro e al suo operato, poiché si è stato chiarito dal ministro Nordio che non ci sono state rivelazioni di segreti d'ufficio o altri comportamenti scorretti. Mi sembra abbastanza evidente che c'è un'inadeguatezza di chi in questo momento gestisce il ministero della giustizia, quindi le dimissioni dovrebbero darla a tutti e tre. Buongiorno, buongiorno cari telespettatori, allora lo avete visto con la nostra copertina, ripercorrendo l'anno che ci siamo appena messi alle spalle, quante volte dalle opposizioni si è levata questa parola dimissioni a proposito di varie vicende che hanno interessato, coinvolto esponenti di governo e di maggioranza. Avete sentito anche come ha replicato più volte la premia Giorgia Belloni che domani è attesa alla conferenza stampa di fine anno, più volte rinviata come sapete a causa proprio delle condizioni di salute della premier. sarà incalzata dai giornalisti, evidentemente su cosa? Sul MES, sul nuovo patto di stabilità, su tutto il capitolo delle riforme, sugli impegni internazionali particolari quest'anno, visto che l'Italia ha la presidenza del G7, sulle elezioni europee, ma Giorgia Belloni dovrà anche rispondere a alcune questioni che stanno agitando la politica nelle ultime ore. Una di queste è l'ormai famoso sparo durante il veglione di Capodanno nel Biellese, sparo partito dalla pistola di un deputato di Fratelli d'Italia che ha ferito il genero di un agente di scorta del sottosegretario alla giustizia del Mastro. L'altra vicenda invece riguarda le decisioni del Capo dello Stato che ha promulgato, ha firmato la legge sulla concorrenza, ma con dei rilievi inviati sia ai Presidenti di Camera e Senato che alla Presidente del Consiglio a proposito delle concessioni sugli ambulanti, su commercio ambulante, insomma ci sono delle concessioni che sono eccessive, troppo lunghe e che stridono, mettiamola così, con il diritto europeo e quindi il Capo dello Stato chiede delle correzioni. Chi si è fatto sentire ieri più che gli ambulanti sono stati i balneari, perché poi rientra tutto nel capitolo della famosa Bolkenstein, c'è stata una durissima nota di Asso Balneari Confindustria nei confronti di Mattarella, lo stesso capo degli industriali italiani Bonomi ha detto, insomma, mi dissocio da questi toni. Ma oggi parleremo anche di un altro capitolo che ha segnato in maniera drammatica e triste il 2023, quello dei femminicidi. Intanto vi presento i nostri ospiti, bentornato a Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia. Buongiorno. Buongiorno a Mirella Serri, scrittrice, insegna letteratura moderna e contemporanea. Mirella, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno all'onorevole Brando Benifei, europarlamentare del Partito Democratico, che è a capo della delegazione del gruppo Socialisti Democratici all'Europarlamento. Buongiorno ad Andrea Ferretti, il nostro economista di riferimento. Ciao Andrea. Troppo buoni, troppo buoni. Uno dei nostri economisti di riferimento, così disegna. No, no, andava meglio prima. Andava meglio prima. Buongiorno all'onorevole Massimilano Salini, eurodeputato di Forza Italia. Buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti. Ovviamente a tutti buon anno. Allora, io vorrei partire proprio da Salini. Salini, che idea si è fatta di questa vicenda dell'onorevole Pozzolo o Pozzolo? Adesso ho sentito pronunciarlo in vari modi. Non è facile da commentare, devo dire. È una delle dinamiche più sgradevoli che si potessero verificare. Onestamente non ho argomenti di grande pregio culturale da sottoporre alla vostra attenzione. Fossi stato in Pozzolo, o Pozzolo, non conosco nemmeno io la collocazione corrente dell'accento, non avrei esercitato il diritto che è assegnato ai parlamentari, attraverso il quale viene limitata la possibilità di tutte le verifiche che devono essere fatte dalle autorità competenti in questo caso. Perché se è vero, come ritengo sia vero quello che ha detto, cioè che non ci sono particolari responsabilità, beh, questo non è uno di quei casi in cui pertanto si debba ricorrere alle tutele che la Costituzione giustamente assicura ai parlamentari, ma per casi diversi da questo. Cioè per i casi che prefigurano uno scenario in cui vi possa essere un'invasione di un potere su un altro, in onore quindi alla divisione dei poteri. Io credo che in questo caso ci si debba mettere a disposizione completamente delle autorità. Ecco, io personalmente non ho mai avuto un'arma in tasca, quindi non corro il rischio di trovarmene una carica o non carica ad una festa di Capodanno, tantomeno a quelle a cui partecipo io, cioè quelle con i miei figli. Allora, chi ci segue è sempre molto informato, però insomma ricordiamo un paio di cose che riguardano questa vicenda, che intanto il deputato è indagato per lesioni aggravate, gli è stato revocato il porto d'armi e si è sottoposto solo molte ore dopo l'accaduto al test della paraffina, sulle mani, sugli abiti, cosa che aveva rifiutato in un primo momento dicendo, insomma, riferendosi all'immunità parlamentare. Sappiamo che invece il test è stato effettuato. Benifei, Fratelli d'Italia, visto che si parla di un deputato di Fratelli d'Italia, dice che è stata una leggerezza, ma questo è un episodio di cronaca, non c'entra niente il governo. Ma allora, diciamo, intanto c'è da chiedersi, ma com'è possibile eleggere al Parlamento italiano una persona che va, violando le norme anche che riguardano la tenuta di un'arma, a una riunione pubblica, quindi violando le norme con un'arma, un'arma carica e secondo i testimoni addirittura la mostrava, ci giocherellava. Diciamo che c'è tutta una ricostruzione, oggi parla un testimone. Vedremo di capire meglio, ma quelle sono le prime cose che sono emerse. Mi chiedo come si fa a eleggere al Parlamento una persona che fa una cosa del genere. Ma dove lo hanno preso? Questa è la prima domanda che mi faccio. La seconda... Ma questo vale un po' per tutti gli schieramenti. Ma guardi, però nessuno... Adesso parliamo di questo... Non devo fare l'avvocato difensore del deputato di Fratelli d'Italia, però insomma... Non ricordo episodi di simile gravità. Però ecco, mi fa domandare dove lo hanno preso. La seconda questione che mi pongo è che cultura c'è in quel partito, per cui una persona sente di poter andare a una festa di Capodanno, anzi dopo il Capodanno, a quanto abbiamo capito, con un'arma. Perché io ricordo che io ho un collega che ha fatto un 6x3 con un albero di Natale con appese delle pallottole. Questo in provincia di Lecco, è facile ritrovarlo su internet. Leggiamo, se uno scorre la cronaca parlamentare, di proposte di legge di Fratelli d'Italia per liberalizzare le armi per i sedicenni, per la caccia, per venderne alcune che oggi non sono vendibili. I giornali oggi ricostruiscono bene queste cose. Allora io dico, purtroppo mi pare che al netto di una vicenda che si capirà meglio, ci sia nella maggioranza e nel partito più importante della maggioranza una cultura delle armi pericolosa, perché noi non vogliamo diventare il Far West, non vogliamo diventare gli Stati Uniti, non vogliamo che l'Italia diventi un luogo dove avere questa facilità con cui utilizzare le armi, portarle addirittura a una festa, non so se ci rendiamo conto, diventi la normalità. Quindi secondo me c'è un problema culturale e anche politico. Non si può derubricare a un fatto, diciamo, solo di crone. Però Mirella Serri, prima di andare in pubblicità, è una questione di buonsenso, diciamo al di là della politica. Qui c'è una questione anche di buonsenso. C'è una questione di immagine però, possiamo dire. Questa persona, questo non è uno sparo nel buio, è uno sparo alla presenza di testimoni di cui un oggi intervistato che racconta come lui giocarellasse con questa pistola. Ma non è possibile perché c'è un testimone, c'erano dei bambini, lui giocarellava con questa pistola, evidentemente perché, mi permetto di dirlo, è una pistola che corrisponde alla sua cultura politica e cultura in generale. Se andiamo a vedere i post che lui ha messo, sono post nel tempo, quindi può sempre avere cambiato opinione, questo gli diamo atto. Però contro le donne... Sulla rete non c'è il diritto all'oblio. No, nella rete no, lui forse può cambiare. Però io lo devo dire, scusate. Vorrebbe. Contro le donne, inneggia Mussolini come grande statista, inneggia alle armi. Poi avrà sempre cambiato opinione, sarà certo. Però questa è la sua cultura di base. E questo ce lo dobbiamo ricordare perché testimonia di una classe dirigente che è assolutamente inadeguata. Ecco, non sono tutti così, ovviamente. Però lui è l'emblema di uno che va a una festa piena di bambini e gioca con una pistola. Devo andare in pubblicità. Dopo la pubblicità ancora qualche commento su questa vicenda. Poi entriamo nei temi che ci stanno particolarmente a cuore. Alcuni li ho citati prima in riferimento a quanto probabilmente dirà Giorgia Meloni domani. Dobbiamo parlare di economia, di ripresa. Ci sono molti rincari alle viste per gli italiani con l'inizio del nuovo anno. Tra poco. Allora, su queste ultime vicende poco fa è intervenuto Matteo Renzi sulla sua e-news. Cosa scrive Matteo Renzi? La verità è che se la Meloni volesse dimostrare di essere seria con gli italiani, caccerebbe chi ferma i treni anche se è suo cognato, chi organizza i veglioni con pistole e pistoleri anche se è suo amico, chi non è all'altezza di governare l'Italia anche se l'ha fatto ministro. Ma Renzi parla ovviamente dall'opposizione. Non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa a questa vicenda. Per una volta sono d'accordo con Renzi. Per una volta sono d'accordo con Renzi. Allora, io vorrei invece tornare a un paio di vicende che hanno segnato la giornata di ieri. Lo dicevo all'inizio, intanto l'intervento, la lettera del capo dello Stato Mattarella a proposito degli ambulanti. Intanto ricostruiamo la vicenda. Sentiamo Francesca Tudini. Il 2024 inizia subito con una nuova grana tra governo e Quirinale dopo che ieri il capo dello Stato Sergio Mattarella promulgando la legge annuale per il mercato e la concorrenza ha presentato parallelamente dei rilievi, tre lettere inviate alle massime istituzioni dello Stato invitando governo e Parlamento a prendere ulteriori iniziative in materia in quanto l'ennesima proroga automatica delle concessioni contenuta nel provvedimento non è compatibile con i principi delle maggiori autorità in materia di apertura al mercato dei servizi. Insomma, come già successo il 24 febbraio quando il capo dello Stato aveva chiesto modifiche al DDL mille proroghe per la parte riguardante i balneari Mattarella ritiene indispensabili nuove norme che a breve intervengano a modificare l'articolo 11 del DDL concorrenza approvata a dicembre ritenendo eccessive e sproporzionate le proroghe di 12 anni per le concessioni già in essere dei commercianti ambulanti. Immediata arriva la durissima reazione della Lega un comunicato in cui si legge non ci arrendiamo a chi nel nome dell'Europa ha provato a svendere lavori e sacrifici di migliaia di italiani La mossa della Lega suona come uno schiaffo al Quirinale rappresenta l'ennesimo posizionamento in chiave elettorale rispetto a Meloni e Fratelli d'Italia A tonare ieri sera anche Asso Balneari, Confindustria che con un comunicato attacca frontalmente Mattarella è sorprendente che con tutti i problemi che attanagliano il paese non pochi e le vicinissime aree oggetto di pericolosi conflitti il Presidente della Repubblica trovi il tempo per porre la sua attenzione sulla questione delle concessioni questa volta del commercio ambulante dopo che l'anno scorso già intervenne per le concessioni balneari con affermazioni prive di fondamento dimostrate poche settimane fa dalla sentenza di Cassazione a sezioni unite dichiara Fabrizio Licordari, Presidente dell'Associazione difendiamo i nostri mercati rionali, i nostri taxi, i nostri stabilimenti balneari dagli attacchi di chi invece vorrebbe metterci le mani sopra il paese ha problemi più seri su cui rivolgere l'attenzione ben diversa, la posizione del Presidente di Confindustria Bonomi che poco dopo fa sapere non mi riconosco assolutamente nelle critiche rivolte da Asso Balneari al Capo dello Stato i rapporti di Confindustria con il Presidente della Repubblica sono e restano quelli che tutti hanno constatato nella nostra Assemblea Pubblica Annuale dello scorso settembre con divisione totale anche per le sue parole espresse nel discorso di fine anno per la sensibilità dimostrata sul tema della concorrenza e di enorme gratitudine per come svolge il suo mandato a garanzia di tutta la nazione Allora vado da Luigi Scordamaglia perché questo è uno di quegli elementi carsici che ogni tanto tornano e che ci portiamo avanti da molti anni i balneari e gli ambulanti per capirci qui si parla di concorrenza sappiamo che anche per avere i fondi del PNRR c'è un impegno italiano affinché insomma si varino queste norme sulla concorrenza poi ogni volta qualcuno si mette di traverso Guardi, io francamente non sottovaluterei come invitava a fare ovviamente Asso Balneari Confindustria tra l'altro mi sembra molto strano che un'associazione di Confindustria che Confindustria accetti tra le sue associazioni chi è contrario alla concorrenza L'altro giorno il Wall Street Journal ha dato una definizione non positiva del nostro paese se nonostante ne parleremo dopo il 2023 si sia chiuso con un andamento della nostra economia molto più avanti e molto meglio di molte altre economie del G7 ha dato un giudizio negativo e di arretratezza legato alla normativa sui taxi Allora che un paese in cui c'è un manifatturiero una filiera che traina che è modello globale debba avere un giudizio negativo per una normativa arretrata conservativa su taxi balneari ambulanti lo trovo francamente ingiustificato quindi l'appello del Presidente della Repubblica ad una vera concorrenza l'appello a sganciare ormai dei benefici che non si giustificano più perché ogni assenza di concorrenza rallenta il paese lo trovo oggettivamente positivo quindi io credo che su questa cosa è una battaglia anche simbolica che deve essere condotta la fine dei benefici la fine di e l'apertura sempre più ad un'economia di competitività di rilancio che poi il nostro paese ha perché il nostro paese se ha fatto quei risultati positivi nel 2023 non l'ha fatto né per i balneari né per i tassisti l'ha fatto per un'agricoltura un'industria che riescono per dire i balneari in qualche modo hanno contribuito al boom del turismo non certo con quella normativa ma lo ha fatto con una capacità competitiva di creare valore che anche rispetto ad un debito relativamente contenuto di queste imprese che è prima in Europa allora lasciarsi giudicare per delle situazioni ormai francamente di piccolo rilievo ma che ci danno un'immagine negativa lo trovo poco corretto allora devo andare devo andare ad Andrea Ferretti ma prima faccio un altro passaggio con Salini perché devo chiedere una cosa a Salini intanto insomma forse Italia è sempre stato un partito no? liberale mettiamola così voglio sapere la sua posizione su questa ennesima vicenda che riguarda in questo caso gli ambulanti ma soprattutto chiederle siccome la campagna elettorale per le europee era già partita con largo anticipo ed è evidente che da qui a giugno si incrementerà insomma diventerà sempre più forte io mi chiedo si farà poi qualcosa riguardo quello che chiede il capo dello Stato Salini? le notizie che circolano le più affidabili diciamo segnalano che comunque all'interno dell'esecutivo vi è una componente tecnica che sta lavorando ad una ridefinizione della normativa che vada nella direzione di rispettare quanto è stato indicato anche se non sempre perfettamente coerente con i sistemi economici dei paesi membri dall'Unione Europea dico questo perché nel definire le regole di concorrenza nell'alternanza alla gestione di servizi come quelle di cui si tratta bisogna avere cura della tutela dell'ammortamento degli investimenti fatti ma questo è un fatto normale diciamo basta definire delle regole perché questo accade in un settore dove normalmente questo non è stato fatto correttamente questo è un po' l'inghippo che ha fermato tutti i governi perché sono decenni che si pone questo problema della libera concorrenza un problema che ha affrontato il centrodestra che ha affrontato il centrosinistra che nessuno ha risolto e adesso prima o poi andrà risolto e parole del capo dello Stato non sono una novità particolare io non credo di doverle particolarmente commentare perché dicono ciò che è evidente cioè che un capo dello Stato che ha approvato la legge sulla concorrenza anche perché è prodromica l'erogazione della quinta rata del PNRR ma che comunque ha approvato quella norma ha fatto un appello alla corretta attuazione delle normative europee diciamo che siamo in un contesto molto classico nel quale alzare i toni come è stato fatto non è esattamente corretto quindi anch'io come diceva correttamente Luigi Scordamaglia credo che l'uscita di Asso Balneare di Confindustria sia stata un'uscita scomposta e giustamente ridarguita diciamo dal presidente di Confindustria però mi scusi Salini però mi scusi Salini però voi avete un alleato di governo che è la Lega che ha usato toni analoghi e bisogna io credo che i toni della Lega in questo caso meritino lo stesso richiamo che è stato fatto ad Asso Balneari la cifra di questo governo non è certamente descrivibile come alcune politiche illiberali che alcuni sostengono descriverebbe noi siamo un governo questo governo un governo che ha come caratteristica fondamentale certamente molti accenti al suo interno e il mio partito che è un partito che appartiene al Partito Popolare Europeo è un partito onestamente trasparentemente votato al libero mercato dentro un'economia sociale di mercato gli accenti che invece fanno prevalere diciamo una maggiore presenza dello Stato nell'economia e che quindi avvicinano questo governo agli antichi fasti della sinistra statalista questi accenti gradualmente con senso di responsabilità si ridurranno non è un dramma che si verifichino momenti di questo tipo la sinistra statalista di Bersani le uniche liberalizzazioni fatte in Italia tutti i governi berlusconi non hanno prodotto nulla spiegaci cosa avete fatto sul MES perché vi siete astruti vanno a spiegare al Partito Popolare la spiegazione sul MES visto che il tuo segretario di partito ha richiamato questo governo dicendo che ci sono 26 paesi che l'hanno approvato dimenticando che i paesi che aderiscono al MES sono solo 20 cioè quelli dell'area euro quindi magari spiega magari quello può essere stato un piccolo errore di spiegazione della segretaria purtroppo voi invece fate errori che danneggiano gravemente la credibilità del paese voglio proprio vederlo posso interrompere la chiarella un attimo la campagna elettorale fatta in questo modo non ti giocherà tra Salini e Benefei posso allora un flash un flash Mattarella ha semplicemente ribadito la vicinanza dell'Italia all'Europa visto che è stato pochi giorni fa bocciato il MES e questo non ce lo dobbiamo dimenticare non è stato bocciato il MES è stato bocciato dopo ha preso un impegno ha dimostrato di non sarei disatteso la parola data oh no siete scatenati signora non è stato bocciato il MES è stata rinviata la ratifica della modifica del MES per l'istensione alle banche ma perché si continuano a dire queste bagianate non è stato bocciato il MES l'Italia è nel MES è già nel MES l'Italia è nel MES l'Italia ha già versato anche 14 miliardi che lo ricordiamo Salvini li ha chiesti indietro scusate vabbè Salvini li ha chiesti indietro ma è evidente che questi soldi non saranno restituiti e quello ci manca e questo ci manca e quello ci manca pensa che immagine ce lo vuoi spiegare subito che dice questo ci manca MES volevi dire qualcosa sul MES ovviamente è difficile trattarlo così un po' volante sicuramente il MES come meccanismo salvastati classico esiste continua a esserci la parte dibattuta invece è questa famosa appunto riforma del MES noi non abbiamo ratificato la riforma del MES il MES come fondo salvastati Grecia Spagna no si insomma Portogallo e Compagnia Bella quello continua esserci ma in realtà non stiamo parlando di una riforma del MES che nella fattispecie adesso la parte che è stata fortemente contestata è proprio la parte del MES che riguarda le banche e questo mi colpisce non poco perché il concetto del MES a sostegno delle banche è il concetto per cui il fondo di risoluzione unica cioè quel fondo che già esiste che dovrebbe assistere le banche in difficoltà in crisi che ha risorse ancora limitate una settantina di miliardi secondo la riforma del MES poteva essere affiancato invece da altrettante risorse invece provenienti dal MES stesso e questo io francamente non mi sento cioè non era questo il punto da andare da impugnare e da opporsi perché perché in fondo si crea comunque un meccanismo più stabile che può intervenire a fronte di crisi bancarie e guardate che il MES in qualche modo è stato come dire preveggente perché la riforma del MES l'inizio di questa riforma del MES è il del 2018 2019 e il 2023 abbiamo avuto la crisi della Silicon Valley che ha evidenziato come problematiche di crisi bancarie che noi pensavamo forse totalmente superate forse non sono proprio così totalmente superate ma vanno affrontate quella è stata superata la crisi della Silicon Valley perché si è intervento subito con molte risorse in maniera coordinata se no l'incendio va spento subito il fatto che il MES possa in qualche modo rafforzare il fondo di risoluzione diciamo agli Stati Uniti quelli che hanno attenzione non li sto mettendo sullo stesso piano sto dicendo che comunque rafforzare i meccanismi che a fronte magari di una singola banca sia in difficoltà con maggiori risorse posso farti la domanda successiva adesso al di là di come ognuno la pensi sul MES la domanda precisa che faccio che credo che interessi chiunque ci ascolta insomma chiunque abbia a che fare con le banche perché si dice lo Stato di Salute delle banche italiane lo dimostrano anche diciamo le trimestrali che abbiamo seguito diciamo nei mesi scorsi è un ottimo Stato di Salute anche alla luce di quello che è successo i rialzi della BCE ma se qualche banca italiana facendo tutti gli scongiuri del caso perché non vogliamo che assolutamente avvenga dovesse avere dei problemi non aver ratificato il MES comporta dei rischi per l'Italia o no non la vedrei in questa maniera così diretta la banca è in difficoltà eccetera è un meccanismo che rafforza gli strumenti che l'Europa si è data per intervenire in maniera rapida perché se è lo strumento già pronto è molto più facile guardate che il MES dovrebbe scattare a sostegno delle banche la risposta dovrebbe essere data in 12 ore per dirvi 12 ore estendibile a 24 deve essere e può intervenire solo se il fondo ha finito le risorse anche perché il MES è uno strumento extraeuropeo diciamola così perché se no non ci capiamo faccio notare che se non intervince il MES il fondo finisce le risorse non può supportare le banche adeguatamente e il MES non ha le risorse per farlo interviene il denaro pubblico e quindi forse è peggio che volevi dire no ti vede appassionata su MES sì certo che mi vede appassionata perché Mattarella secondo me subito dopo il primo dell'anno ha fatto questo richiamo perché vuole dire che l'Italia è vicina all'Europa capito quindi avendo noi come dire avendo dimostrato che siamo lontani perché questo è il messaggio politico che abbiamo dimostrato nei confronti del MES a questo punto ha ribadito con forza che rischiamo una procedura di infrazione gravissima allora io vi chiedo molta sintesi perché devo chiedere ancora molte cose breve incursione di Salini poi torno alla scordamaglia Salini ricorderete come fin dalla sua origine il MES ha generato un dibattito molto forte tra gli stati la Germania con il blocco della Corte Costituzionale tedesca rinviò di molto tempo l'approvazione del MES proprio perché sussistono come giustamente lei ricordava poco fa alcuni elementi che giustamente alimentano il dibattito sulla governance perché il MES non è un soggetto istituzionale europeo è una società di diritto lusso e il burghese che ha compiti importanti che ad esempio il mio partito all'interno del novero diciamo delle politiche del Partito Popolare Europeo sostiene ma che giustifica alcuni dubbi soprattutto nel momento in cui in questa fase di ratifica dell'allargamento alla dimensione bancaria noi assistiamo a un contesto in cui manca totalmente un sistema armonizzato bancario in livello europeo che dovrebbe essere prodromico a questa ratifica della modifica del MES dovrebbe esserci una politica europea sì quella di armonizzazione delle politiche bancarie e in un momento storico in cui è vero lo avete detto le banche italiane godono di discreta salute mentre invece guarda un po' quali sono le banche che non godono di buona salute è proprio quelle tedesche bene allora è giusto fare un percorso aperto nel merito sulla base di dati reali i dati sono emersi in parte della discussione che stiamo facendo e la stensione che noi abbiamo avanzato nella discussione sulla ratifica della stensione della dimensione bancaria del MES è motivata da argomenti di una solidità molto forte che porteremo continuamente come sempre abbiamo portato in Parlamento Europeo e dentro Parlamento Italiano questa è la posizione di Forza Italia e dalla ragione per l'attuale siamo credo i migliori sostenitori di quella corretta richiamo del Presidente della Repubblica ad una presenza dignitosa all'interno delle istituzioni europee allora è tutto chiaro adesso facciamo così andiamo in pubblicità è tardissimo riparto da Scotavaglia poi torno anche da Brando Benifei così parliamo anche un po' di prospettive economiche che non mi pare sia irrilevante come aspetto dell'anno che ha appena cominciato tra poco allora micro supplemento sul mess di Andrea Ferretti e poi vado da Scotavaglia andavo solo meditando che trovo veramente stravagante che dal punto di vista del patto di stabilità noi richiediamo più Europa interventi più mirati alla situazione di ciascun paese più elasticità e dall'altra parte invece sul mess diciamo le nostre banche stanno bene non abbiamo bisogno del mess non lo firmiamo ecco questo lo trovo veramente stravagante come posizione Salvini perché Salvini diceva non vogliamo dare soldi per aiutare le nostre banche sono solide e per rispondere alla tua domanda se le banche europee diciamo potessero avere un fondo salva stati che può godere del doppio delle sue risorse grazie al mess sicuramente dà più stabilità al sistema ma sicuramente ma poi possiamo in campagna elettorale no dico possibile che siamo gli unici fessi perché in questo racconto tutti gli altri paesi contraenti hanno ratificato la riforma sono tutti schiavi della Germania o forse siamo noi che abbiamo problemi con la nostra politica interna questa è la domanda che lascio è impensabile che una banca è un racconto paradossale è impensabile che una banca tedesca in crisi ipotizziamo non propaghi la sua crisi alle altre banche europee e anche quelle italiane perché ovviamente la speculazione metterebbe subito insieme debito pubblico e banche e siccome le banche italiane e altre hanno qualcosa di 400 miliardi di debito pubblico in pancia sicuramente sotto crisi la speculazione lo dico in maniera diversa cosa che chi ci segue sa a memoria siccome per esempio gran parte delle aziende italiane sono intimamente legate per esempio alle aziende automobilistiche tedesche se la Germania non va bene questo non è un bene neanche per l'Italia adesso ho fatto un parallelo diverso ma insomma tanto per capirci la banca da Silicon Valley in qualche modo ha creato problemi a banche europee senza nessun collegamento allora Scordamaglia da chi come leguita un osservatorio così importante come filiera Italia come si prospetta questo 2024 crescita dal punto di vista economico allora mi faccio chiudere innanzitutto un attimino sulla questione Europa al di là del MES che comunque sicuramente verrà risolto a mio avviso è il patto di stabilità che è stata una grandissima occasione persa abbiamo in Europa e mi collego agli indici che dicevamo prima in cui il grande malato è la Germania ma a livello globale il grande malato è l'Europa e pensare di curare l'Europa che è oggetto di una sfida competitiva enorme da parte degli Stati Uniti che stanno facendo cherry picking sulle nostre imprese e da parte della Cina l'Europa si auto solo metta a dieta metta a dieta il paziente pensando che questo riesca a risolvere il problema è una delusione detto questo perché appunto l'esclusione degli investimenti per rendere l'Europa più Europa competitiva era una cosa che effettivamente sarebbe dovuta pur consapevoli del livello di debito che non andava superato quindi detto questo le previsioni ma lì è perché noi non abbiamo avuto sufficiente forza negoziale o perché Europa non ha capito le sfide che ci sono non è un paese che ha forza negoziale qui c'è la Germania che è andata in crisi con il suo modello di utilizzo di energia a basso costo dalla Russia quasi gratis dalla Russia e dalla Russia e crescita verso le esportazioni in Cina ha pensato bene di richiudersi di ritornare ad una rigidità e a non capire che più investimenti e più integrazione europea era l'unica risposta ai 480 miliardi degli Stati Uniti per la transizione verde che hanno cominciato a fare acquisti proprio dalla Germania BAS Volkswagen stanno andando in Germania quindi ritornare a fare più paese meno Europa come la Germania ha voluto è francamente una scelta sbagliata detto questo le previsioni allora noi veniamo dicevo prima da un 2023 e ancora più dietro da una ripresa post-covid che è stata superiore agli altri paesi perché abbiamo nonostante i gap strutturali capacità di trainare da parte delle nostre aziende il 2024 però ci sono numerosi nubi e le nubi si vedono dagli ultimi mesi del 2023 quando l'indice PMI delle imprese l'indice di fiducia è tornato indietro è chiaro che la grande incognita sono i tassi di interesse i tassi di interesse vogliono così alti vogliono dire tre cose meno prestito alle aziende meno 6,7% dei prestiti è un record negativo assoluto che blocca gli investimenti aziendali meno consumi interni i consumi alimentari sono crollati nel 2023 del 4,5% stiamo parlando di beni essenziali ma senza consumi interni con un export che non cresce adeguatamente per situazioni di destabilizzazione globale il paese non va e terza cosa gli investimenti se tu fai pagare il denaro al 5% nessuna impresa investe quindi questo è il discorso che riguarda la BCE mi veniva in mente che le banche che hanno stretto un po' il cordone dei crediti meno 6,7% di prestiti però col fatto che la famosa tassa sugli extra profitti è diventata poi un'opportunità per patrimonializzare banche più robuste dovrebbero concedere più prestiti scusate non so se il ragionamento è sbagliato questo è un ragionamento che tu hai a cuore o a cuore non dico che è sbagliato ma non possiamo trascurare l'altra parte della medaglia l'imprenditore che non è tranquillo per il futuro che vede scuro gli investimenti non li fa non li fa dice a prescindere da se la banca gli concede o no secondo non vi scordate mai che non è più come una volta le banche erogano il credito nell'ambito di un preciso corridoio tracciato dagli accordi di Basilea che per molti è una strettoia terribile quel corridoio è una certa strettoia quando sento dire banche cattive non mi avete dimezzato la rata del mutuo io dico attenzione che se all'onorevole dimezzavano per dire la rata del mutuo lui sarebbe stato automaticamente posto probabilmente nell'ambito del credito deteriorato proprio tra i cattivi nella lista dei cattivi ti dimezzo la rata ma ti metto nell'ambito e vuol dire che lui non avrebbe mai più avuto accesso al credito verosimilmente o per un bel pezzo quindi è solo un aspetto questo bisogna vedere le aspettative degli imprenditori e il fatto che le banche ormai si muovono dentro un corridoio prima di andare a Paolo Sottocorona mi chiedo a Benefei una risposta secca mentre il Movimento 5 Stelle è andato all'attacco del governo dicendo sugli extra profitti avete fatto ridere voi sugli extra profitti che dite? Noi pensiamo che su quello si poteva fare un intervento meglio costruito e comunque condivido quello che ha detto lei poco fa cioè che se alla fine si è deciso di dare la possibilità di patrimonializzare è importante che questo aiuti poi anche l'economia reale voglio solo fare una battuta Intanto una cosa tutto questo si è verificato una cosa perché i bancari hanno rinnovato il contratto con un sostanzioso aumento il settore dei lavoratori dei dipendenti delle banche e l'aumento dei salari in generale è qualcosa che serve anche al nostro paese dato che abbiamo i salari più bassi diciamo cresciuti meno anzi diminuiti in termini reali a livello europeo però volevo solo dire una cosa non polemica non di parte sul patto di stabilità perché sono state già dette tante cose peraltro io condivido l'analisi di Scordamaglio ovviamente ci aggiungo dal mio punto di vista anche a mio avviso una incapacità negoziale del governo ma non voglio dire questo voglio solo soffermarmi su un punto che è importante anche per chi ci ascolta il patto di stabilità non è arrivato in fondo tanto che con il collega con il collega Salini devo dire con cui abbiamo discusso ora sono convinto però che potremo lavorare in maniera più unitaria ecco come come sistema paese perché il Parlamento europeo ha ancora un margine ora di negoziazione sarà importante che il testo come è stato negoziato dai governi non esca esattamente così alla fine perché ora c'è ancora qualche mese di negoziazione tra Parlamento e Consiglio la domanda successiva è questa proprio alla luce di quello che lei diceva qualche mese di negoziazione parliamoci chiaro tutto scatterà dopo le elezioni alla fine dopo le elezioni europee quindi potrebbe anche essere rivisto questo meccanismo lo dico in modo che non siamo ipocriti tra noi adesso c'è un meccanismo europeo che necessita di tutto questo però da quello che abbiamo capito con il nuovo patto di stabilità ipotizziamo che rimanga così beh bisogna fare attenzione perché c'è il caso che visto che i piani a 4 anni o a 7 anni di rientro di vari stati saranno in qualche modo concordati che ha fatto il calcolo almeno secondo le migliori previsioni l'Italia deve dare 5 miliardi l'anno dobbiamo sborsare nella migliore delle ipotesi non leggevo poi tu sei l'economista no ma voglio dire un'altra cosa che siccome vengono concordati prima questi piani quelli a 4-7 anni è molto facile che visto che sono stati concordati poi si pretenderà per la prima volta il rispetto effettivo di quei piani guardate che è come se a un privato a un certo punto avessero levato gli sconfinamenti in banca è presente lo sconfinamento andare oltre l'affidamento poi c'era avuto un giorno in passato era normalissimo nel momento in cui il direttore di banca dice non puoi più sconfinare per quel debitore è un problema serio e lo stesso sostanzialmente il problema serio arriva arrivo Paolo Sottocorona è che mi dicono ancora qualche giorno di tregua di queste temperature forse fuori media poi arriva il grande gelo e così se confermi i tuoi concorrenti o no? Sicuramente abbiamo ancora due o tre giorni simili a quelli passati poi c'è un cambio di passo sarà arriverà freddo sicuramente andremo sotto media sì è normale dopo che sei stato molto sopra media che poi sia glaciale artico siberiana cosa del genere diciamo che dovremmo essere più parchi nell'uso di aggettivi c'è un'ondata di freddo lo sai che io mi diverto quando leggo questi titoli il freddo polare anzi se vogliamo dire una prima idea non nevicherà molto sulle Alpi dove servirebbe nevicherà probabilmente sul versante Adriatico come spesso succede quando il vento è da est però questo avremo tempo questo è a inizio della prossima settimana però insomma quest'idea c'è e prima o poi doveva anche succedere questa è la situazione di oggi abbiamo visto soltanto qualche nuvola le precipitazioni basso tirreno alta toscana Liguria ma mai particolarmente intense c'è qualcosa verso la zona della Val d'Aosta su quella zona alpina forse qualche precipitazione sul resto delle Alpi no domani addirittura più nuvole forse più grigio ma ancora meno piogge vedete ancora più deboli sono debolissime e venerdì c'è il primo segno del cambiamento perché il peggioramento al nord è marcato marcatissimo in Liguria a livello sicuramente di criticità ma su tutto il nord le precipitazioni ci sono più moderate al centro quasi assente al sud ma questo maltempo nella giornata di sabato quindi il regalo di Befana è che questo maltempo arriverà a prendere gran parte del paese seguito appunto da abbassamenti delle temperature da stare molto sopra a finire molto sotto chiaro che il salto sarà molto sarà molto brusco ieri abbiamo intravisto questa foto di speranza perché per noi l'arcobaleno è sempre segno di speranza ce l'aveva mandata anzi sono due gli arcobaleni vedete siamo ad Acitrezza ce l'ha mandata Lorenzo ma insomma per come è cominciato l'anno sotto tutti i punti di vista noi continuiamo a sperare però insomma queste speranze sono un po' flebili grazie a Paolo Sottocorona allora tra poco l'ultima parte della trasmissione adesso torno con due battute che credo si volesse devo anche leggervi una mail che mi è arrivata e poi dobbiamo parlare anche con Mirella Serri del suo libro Uomini contro tra poco allora utilizziamo al meglio questi ultimi minuti in tale che portamaglia telegrafico su una serie di punti uno posizione negoziale italiana nel patto di stabilità non penso che sia stato facile perché come ha dichiarato il ministro delle finanze recentemente ogni volta che l'Italia chiedeva qualcosa la Germania gli ricordava ricordati che hai speso 88 miliardi per rifare le case ai ricchi cioè super bonus speriamo che questa cosa non capiti più due la Germania come dicevamo è ottusa però nel non capire che non escludere gli investimenti dal patto di stabilità vuol dire non rilanciare una competitività europea detto questo in Italia faremo i conti con un 2024 2025 in cui risorse per tutti non ce ne sono quindi quello che abbiamo visto in passato iperfinanziare un settore come l'automotive che è scappato all'estero col bottino altre cose non si potranno più fare quello che serve è un grande piano di competitività per le imprese che vuol dire 5.0 per le imprese per l'agricoltura cioè rilanciare gli investimenti competitivi e aumentare i salari quindi un cuneo contributivo che alla fine vuol dire fiscalizzare le disuguaglianze quello che io dico non è possibile che in Italia ci siano i dati sono di due mesi fa 6 milioni di persone 10% della popolazione nazionale in povertà alimentare non riescono a fare un pasto completo ogni due giorni quindi devono aumentare i salari più bassi devono aumentare con un cuneo contributivo devono aumentare con contratti collettivi che consentano di rendere le imprese competitive ma far guadagnare di più chi lavora allora c'è Millie che ci scrive no? io capisco che ognuno ha una posizione noi cerchiamo di rappresentare tutte le posizioni ma quando Millie scrive ma è possibile che quando parlate di mess e scrive superficialmente non dite mai che è gestito da un ente indipendente che gode dell'immunità che può intervenire a gamba tesa in un paese che lo rende pericolosissimo perché non approfondite mai? allora mi pare che tutt'oggi abbiamo detto meno che non si siano dette queste cose allora cara Millie con tutto il bene possibile le critiche vanno tutte bene però seguite quello che diciamo perché sennò sembra che uno sente un'altra trasmissione fine della polemica allora voglio farvi vedere questo tweet e poi arrivo da Mirella Serri per il suo libro perché ieri c'è stata un'altra vicenda di cui si parla meno oggi però siccome parlavamo di temi economici e di legge di bilancio questo è quello mi sembrava un consigliere della Corte dei Conti Marcello Degni guardate occasione persa c'erano le condizioni per l'ostruzionismo e l'esercizio provvisorio potevamo farli sbavare di rabbia sulla cosiddetta manovra blindata e li abbiamo invece fatto recitare Marinetti credo che il riferimento fosse al capogruppo di Fratelli d'Italia Foti la cena Marinetti ma al di là di questo questo lo scrive un membro della Corte dei Conti ieri la maggioranza ha molto protestato l'ha fatto il capogruppo in Senato Malan l'hanno fatto i capigruppo di Camera e Senato della Lega l'ha fatto anche Gasparri da Forza Italia e qui vado da Benifei adesso Degni ha rilasciato delle interviste oggi ha detto Espresso non era contro il governo ce l'avevo con l'opposizione perché era indirizzato a Elislein doveva l'opposizione sfruttare al meglio gli strumenti parlamentari per marcare la maggioranza la mia era una critica riferita al metodo non al contenuto della manovra però adesso di là di quello che dice Degni col bassimo rispetto lo dico ma può un consigliere per quanto di area PD della Corte dei Conti della Magistratura Contabile fare un tweet così? Faccio questa domanda a Sì parlo a titolo personale però la mia opinione è che non si può fare un'uscita del genere anche perché proprio il concetto che un magistrato contabile renda così esplicita in un mezzo pubblico non in una riunione fra amici una propria opinione politica così marcata legittima è legittimo che un magistrato abbia le sue idee però un conto è dirlo fra amici o in contesti privati Twitter è come fare un megafono in piazza quindi a mio avviso non avrebbe dovuto farlo lo trovo un comportamento che non sarebbe dovuto accadere da parte di un magistrato della Corte dei Conti questa è la mia opinione ovviamente ripeto a titolo personale temevo una difesa d'ufficio invece vabbè ma su questo devo dire se la destra in questo caso protesta io credo io credo che se l'avesse fatto poiché è capitato che ci fossero esponenti anche di diciamo di istituzioni delicate che magari si sono espressi in modo diverso e l'abbiamo criticati io credo so che ma anche in questo caso se fatemi Salini prego diciamo l'uscita ha un ha un sapore chiaro al di là della persona in sé quindi l'opportunità che è stata stigmatizzata molto compostamente devo dire ma il segnale è chiaro c'è un nervosismo di fondo che è motivatissimo è motivatissimo il nervosismo che sfocia esonda ed esce dalla sede del partito e arriva tra il popolo dei nominati dal partito nelle istituzioni quella diciamo quel nervosismo politico giustificatissimo per il futuro del partito che lo ha nominato all'interno della Corte dei Conti si trasforma in questa volgarità istituzionale diciamo che ognuno ha i suoi problemi quindi chi è senza peccato scagli la prima pietra va bene va bene e niente insomma vi abbiamo dato conto comunque è bruttissimo come è fatto questo a mio avviso che è un magistrato della Corte dei Conti delicatissimo proprio nell'ambito anche di discorsi economici eccetera se ne esca con questo io lo trovo personalmente particolarmente grave anche perché evoca l'esercizio provvisore che per un paese diciamo adesso non voglio dire sono le cavallette ma è una cosa molto seria sembra proprio la solita politica che prevarica l'interesse del paese per motivi assolghi dicevo che dal punto di vista lessicale è anche molto volgare diciamo se si esprimeva in maniera un po' diversa era meglio molto duro lo dico così è vero accolpisce anche quello volevo mettere in evidenza perché abbiamo parlato di quello che turba la destra c'è quello che turba anche la sinistra per non fare sconti a nessuno non è un esponente politico abbiamo iniziato parlando di uno con la pistola fare un parallelo tra vicende diverse però è una notizia che ieri insomma è arrivata anche tardi poi la replica eccetera però insomma volevo mostrarvela allora uomini contro la lunga marcia dell'antifemminismo italiano sì peraltro credo che è citata chi citi Nilde Yotti pure ci racconti un po' in che senso è una lunga marcia è una lunga marcia che arriva agli attuali femminicidi io il libro naturalmente l'ho scritto un anno fa però i femminicidi già c'erano e poi sono addirittura se vogliamo ancora di più montati e esplosi a parti dalle donne partigiane parto da tutto parto dal 45 parliamo di Nilde parliamo anche di sì di come si è comportata Giulia Cerchetti scusami se non si capisce sembriamo schizofrenici esatto sì parto da come si è comportata la sinistra nei confronti delle donne i partiti il partito comunista eccetera e di come si è comportata anche l'estrema destra attenzione io non dimentico che a sinistra ci sono state poi tante battaglie a favore delle donne il divorzio l'aborto il diritto di famiglia per carità eccetera quindi non le metto sullo stesso piano però guardo gli ostacoli che sono stati posti al progresso femminile sia dal partito comunista e poi dall'estrema destra un esempio allora parlo di Nilde Jotti che all'inizio ai suoi esordi nel 1945 era una madre costituente e che era una femminista convinta non lo sarà più negli anni 70 anzi addirittura avrà delle polemiche con le femministe che chiama borghesi perché perché all'interno del suo stesso partito viene come dire non dato gli atti e questo lui la protegge sempre quindi fa una figura un po' diciamo a parte ma addirittura si scaglia pensate un po' non lo sa nessuno contro Nilde Jotti indovinate chi Stalin Stalin che dall'Unione Sovietica manda dei telegrammi per accusare Nilde Jotti degli attentati attogliatti ma nell'emancipazione della donna ha contribuito più la destra o la sinistra in Italia? sicuramente ha contribuito la sinistra non c'è dubbio non c'è dubbio però io appunto per questo dico non le metto sullo stesso piano però quando passo alla destra passo addirittura all'estrema destra passo a parlare di un filosofo che ancora oggi viene molto seguito dai giovani di estrema destra che è il padre diciamo così spirituale di ordine nuovo cioè del terrorismo di destra e che ancora oggi nei giornali di destra si chiama Julius Evola questo filosofo viene citato nei giornali di destra come se fosse Benedetto Croce non so ha detto questo filosofo questo filosofo è stato un antisemita filo itleriano anche nel dopoguerra non solo negli anni 30 ma addirittura nel dopoguerra e lo sapete di chi è stato maestro Julius Evola è stato il maestro di Angelo Izzo Angelo Izzo è uno dei tre ci ricorda la ricetta del Circeo uno dei tre massacratori del Circeo era a casa sua e siccome Evola teorizzava l'antisemitismo addirittura rimprovera Almirante perché non era antisemitista solo una cosa e l'antifemminismo scatenato teorizzava l'orgia e l'uso delle droghe i massacratori del Circeo diciamo che seguono i suoi quindi toglietelo da tutti i mercatini di destra dei giovani toglietelo dai giornali di destra perché questo è un personaggio pericoloso proprio in un flash ti chiedo questo paese in questo paese domina ancora una cultura patriarcale o maschilista perché sono due cose diverse sì sono due cose diverse io penso che domini una cultura patriarcale cioè che nasca proprio da lì addirittura nasca dagli anni trenta diciamo dal fascismo poi però si come dire si dipana attraverso questo possesso cosa intendiamo per patriarcato il possesso della donna e quello è nei femminicidi allora devo farvi un flash finale un tweet da ognuno di voi vado però rapidamente a Francesco Magnani pronto per la reghetina ciao Francesco Andrea ciao buongiorno ripartiamo dalle due grane che Giorgia Meloni inevitabilmente dovrà chiarire domani con i giornalisti il capodanno con il botto del deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo un giallo che si infittisce ogni giorno che passa ha chiesto l'immunità parlamentare sì o no pare che abbia ritardato l'esame dello Stab ma non abbia voluto consegnare gli indumenti per non restare al freddo e poi la questione delle concessioni i rilievi fatti dal Quirinale con noi sarà presente anche il capo dei balneari che ieri si è scagliato durissimamente contro il capo dello Stato Fabrizio Licordari con noi Elisabetta Gualmini del Partito Democratico Alessandra Ghisleri Euromide Research Flavio Tosi Andrea Carugati il politologo Spartaco Pupo poi vi porteremo sullo stretto di Messina e a Cortina teatro di due grandi opere lo stretto il ponte sullo stretto e la pista da Boba anche se su quella ci sono una serie di dubbi rispetto alle Olimpiadi del 2026 tanti gli ospiti Cateno De Luca Marco Ponti Dania Terranova Carlo Cambi Matilde Siracusano poi ci viene a trovare il fondatore del Fatto Quotidiano Antonio Padellaro questo e tanto altro tra poco all'aria che tira grazie rapidissima come dire passerella scordamaglia che cosa vorrebbe sentire dire domani dalla Meloni una cosa che sta a cuore ripeto il rilancio della competitività del paese soprattutto per il prossimo anno e poi speriamo al di là della Meloni di venerdì sentire finalmente la BCE che dà un dato positivo sull'inflazione e tagli i tassi di interesse questo prescinde dalla stessa Meloni io vorrei gli asili le scuole visto che si preoccupa tanto della natalità che rilanciasse questo tema bene fei mi piacerebbe un ravvedimento operoso sul salario minimo e anche qualche risposta in più sulla sanità su cui la situazione mi pare molto seria Ferretti crescita 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 Salini sì la crescita bisogna distinguerci dalla banca centrale europea e dire che il segreto di questo paese è la sua manifattura e quindi investire su quello grazie anche per l'estrema sintesi noi ci vediamo domani adesso c'è la raghettira grazie grazie a tutti grazie a tutti